buongiorno fiorellini fiorelline pure oggi facciamo un video vlog non li faccio quasi mai mi do che inizia a farli qualche cosa però non so dove faccio oggi mezzo stamattina e basta perchè dove vado non vado da nessuna parte prima non andavo più in giro eh mo sto sempre a casa tutta la mattina che vado a camminare solo quello esco da casa sto sempre a casa il carattere che ho io sto sempre a casa è una noia poi non è che ci avemmo siamo in tre siamo in tre soli non se sarei stata cita abitata lì vai nella piazzetta vai qua invece dove vai ne vai in una parte lì puoi a piedi puoi partire qui puoi forza di venire con la macchina tu sai che stavo in condominio non è che mi piaceva tanto a me questo condominio però purtroppo se qui giusto se io ne so vado a dire la cinesi di una da mia figlia devo andare ne so a comprare qualche cosa e c'è la coppia anzi mi tocca andare a comprare pane perché ieri un altro ieri e coprò pane salato a me salato non mi piace a me piace sciavo a me di terni e a coppe c'hanno l'inter pan quello di terni e a me piace di più a me invece quello salato no ma non mi piace proprio che caso c'è quest'ora 17 croce io stavo a 18 ma questa cammina 17 va bene io andando a civita ma li faccio vedere ecco quella cina ci ha paura per la sbagliere la fotocamera mini super piccola che vi faccio vedere qua lo specchio piccolissima e niente l'appoggio sopra il volante qua e perciò non è che tutte e due le mani sul volante e perciò immagino non trema perché io non è troppo querino trema quando la fa lui c'è video che premano e poi quando registro deco chiuso il finestrino perché sennò fa rumore e allora non fa rumore come quel giorno che sono andata da mezz'orella poi la fotocamera ha detto che non è che vabbè adesso stiamo andando a Civita ho detto non so oggi che facciamo perché giornalmente io faccio cose e non so che facciamo e niente adesso giriamo ora c'è un secondo perché sennò allungo due ore solamente per la strada giriamo qua di solito c'è il tramonto ma se non è oggi tanto il tramonto però di solito c'è il sole proprio il tramonto ah faccio il troppo presto devo fare ancora il tramonto perché è prestissimo eh sono le 5 e 49 adesso prima quando sono partita era poco la prima erano le 5 e mezza poi quando sono partita mi sono partita devo uscire da casa bevi vabbè non ho giù il cancello non so chi la vista lo sa il barcone non è piccolo è grande però ciò dopo ciò scare devi aprire il cancello devi chiudirlo saluto i cani ci stanno i cani dai fuori e niente dopo devo andare dentro della macchina che ci vuole un po' ci vuole va bene comunque stiamo andando giù ci vediamo l'ho fatta pur va che è blocco ci vediamo quando arriviamo giù per andare a camminare un po' prima ora vediamo ecco sono arrivata a cita mi sono messa pure le gocce perché senza le lacrime mi si appiccicano tutti gli occhi ma casero vabbè mi scendo perché mi devo mettere questo qui sulla vita e poi ci vediamo ecco adesso ci sono scesa andiamo a camminare ci si è bruciato tutto un po' guardate si è bruciato tutto che ti sento qua guardate guardate si è bruciato tutto e vabbè comunque adesso andiamo a camminare sarò per stare che si mettono le maniche lunghe ma io c'ho caldo si fa freschetta adesso però dopo quando cammini ti tocca le mangiacchette e te lo metti te lo teni in mano fa freddo d'inverno là però oggi no poi vi dico se io non mi alzo e la prima cosa devo fare vado a camminare se per esempio io mi alzo e mi metto a pulire non cammino perché io c'ho negli schiacciati e camminando ma aveva detto il dottore si staccavano poi vabbè c'ho pure una specie di ginnastica che è un allungamento della caroide buonosa quella che però della schiena il collo roba così però non lo faccio mai perché me lo metti per terra che si fanno al stesso dopo pur si è pensato di magrire però ma io penso che se riesco a buttare via chili che voglio dovrei riuscire a camminare meglio sarei meglio e tutto adesso fa la salita per esempio e la mattina è casino non so non capisce chi se stessi problemi è mia io ho l'anelli schiacciati una lesione a schiena quando sono andata a comprare scarpe mi ha detto pure mamma c'ha i problemi di schiena però non c'ha come me ha detto ora vi faccio vedere che già sto facendo la salita la salita e ha detto pure mamma però non c'ha problemi come me io perché mi faccio forza e robe così ma io ogni giorno rischio andato a stare a hotel perché se non mi dimagrisco è rischioso infatti io non potrei fare certi mi chiedono lavori io non potrei neanche fare pulizia di casa infatti io li faccio a scatti pulisco il barcone dopo questa un'oretta seduta per riposare mia schiena dopo un bezzo ieri ho fatto ieri ho pulito tutto il barcone della camera mia che ci vuole tantissimo lo sa solo chi l'ha visto poi ho aprito il barcone della cameretta della chiere il barcone della ieri mattina dopo ho fatto la ginasica il barcone della da camera mia poi il barcone della cameretta della chiere il barcone della cucina poi ho lavato la cucinetta e poi mi sono dovuta riposare e quando mi sono riposata ho pulito con altre cose è dura pulire a me quando sono andata all'ortopedico mi ha detto dovevo mettere la persona a me pulire la casa mi dovevo mettere a letto sdraiata e dovevo dimagrirmi non so come fai a dimagrire se ti metti a letto perché io prima facendo la dieta già mangiavo come sono mangiata adesso non riusciva a dimagrirmi perché ha detto guarda io se guardavo la lastra tua senza sapere che tu cammini se a me mi piaceva io ho detto io sono un dottore se mi farebbero vedere la tua lastra e io non ti ho mai visto un altro dottore diceva guarda questa lastra questa signora io ti vedrei paralizzata ti vedrei paralizzata mi ha detto addirittura sì perché tu non ti rendi conto come c'hai la schiena ha detto l'unica soluzione che tu puoi avere per camminare è dimagrire diventare un dietologo qua con la mutua non ci stanno le dolici dovrei andare a privato però siccome che io non è che guadagniamo il latte di youtube perché vedete pure le visualizzazioni perché se sa se noi guadagniamo se abbiamo tante visualizzazioni guadagniamo parecchio forse quelle le trash fanno le trashate fa bene guarda tante tante persone i video loro io invece mi piace più essere semplice se guadagno guadagno se non guadagno pazienza però mi sono divertita a registrare il video per le persone che mi amano perciò tutte le cose per esempio le scarpe mi sono comprata che posso camminare ci costano 80 euro perché stavano nel scontro sconto scontro sì però stavano nel sconto e allora mi sono potuta comprare le scarpe ma dati i soldi querino dell'incidente che aveva avuto che gli avevano pagato ma quelli glielo devo ridare perché sono soldi su insomma così per andare al dietologo non da al dietologo a pagamento a civita c'è questa civita perciò sto a fare dieta ok è una dieta al dietologo sì però c'ha formaggi dovrei modificarla perché non posso mangiare più di formaggi però non lo so se no a dire sono quelle va bene comunque ora giro la fotocamera vi faccio vedere un po' di strada e poi ci vediamo qui su ecco qua sto doveva ferma un attimo per non registrare le persone e ok adesso sono andando a camminare qua su e niente ci vediamo più su ecco adesso sto andando in discesa stiamo andando in discesa e poi dopo rifaremo la salita adesso finita vi faccio dei pezzetti perché se no è lunghissimo tanto dopo li devo tagliare perché se dopo è troppo lungo il video lo taglio e perciò pure adesso devo fare qualche taglietto però taglio meno cerco da fare meno tagli possibili e perciò faccio i pezzetti di video con la fotocamera faccio i pezzetti di video e perciò faccio meno tagli possibili ci vediamo quanto siamo arrivati sulla salita stiamo in piano laggiù c'è la salita ecco adesso sto andando in salita sto aspettando che doveva passare la signora e stiamo andando su va bene in salita c'è tanta gente qua che viene a camminare invece dove abito io non c'era di mai nessuno la mattina provate ad andarci la mattina presto così una volta proprio isolato tutto il paese giusto chi apre il bar o chi fa il bar o chi fa lavorare invece qua a Civita tutti vengono a camminare qua chi abita a Cettosorio chi abita in campagna chi abita a fabbrica io andavo abitavo qua tante persone ho trovato che venivano da fabbrica perché ho detto fabbrica non c'era niente da camminare ci sta un giardino quello col pavimento verde però non apre presto lì è chiuso lì c'è l'orario che apre perciò poi sinceramente a me piace qua a Civita perché conosco più persone ci ho camminato un sacco d'anni qua perciò conosco tante persone che venivano a camminare qua e l'ho ritrovata a camminare qua perciò è più bello camminare qua adesso c'è tanta salita solo questa c'è salita e basta salita è scesa e basta qua guardate che salita qua la fotocamera non lo so se fa vedere quanta salita c'è però c'è adesso sto andando distattendo perché guarda la strada com'è ti prendi una storta ti rompi il piede mi faccio vedere pure questa un'accorciatoia che io non ci vado perché vengo giù per camminare e pensare un po' meglio con la schiena questo è il cagnolino ciao cagnolino questo è qui sbocca la parte di là che dopo vi faccio vedere dove è un'accorciatoia e taglia non fa tutta questa strada lunga cammini meno poche parole ma io vengo qua per camminare e faccio più strada possibile e vabbè adesso riesco perché se do ho i video cent'anni di video solo adesso sono arrivata che qua vendono i fiori però aprono le 8 i fiori i fiori i fiori no vi faccio piante non so che i fiori è una cosa e è arrivata qua ho fatto un bel pezzo di strada pure se voi non vedete che sembra poca vedendo il video ma è tanto perché io faccio i pezzetti vi faccio tutti i pezzetti ogni tanto e perciò non vedete proprio tutta la strada perché ci vorrebbe un'ora di video solo per fare questo video qua un giro del video ma non so neanche se a memoria di card dura 30 minuti o 40 minuti no un quarto d'ora 45 minuti perché un'ora non ce la faccio 60 minuti le faccio prima adesso giriamo si potrebbe andare laggiù per camminare però dopo non so dove si passa si scarica pure la batteria la pede non so perché si scrive perché è vecchia e non regge tanta batteria se non regge ci vediamo a casa perché se non regge purtroppo faccio dove a casa perché ho un'altra batteria vediamo faccio video dove sta quella strada vi faccio vedere un attimo il tramonto bello prato poi il tramonto siamo quasi arrivati giù 12 dicevo che quando spengo il centro ci sta vediamo se riesco a raggiungere fino lì o alla macchina sento una che regge su questa strada faccio vedere lì poi ci vediamo in macchina se ancora funziona mi so scordare quella stava proprio che quasi può passare mettere la cosa stava più su però si può tagliare pure qua ecco sono quasi arrivata giù la macchina quasi un altro 15 minuti 10 minuti non lo so quanto ci vorrà insomma ho quasi fatto il giro il prossimo vlog che farò mi devo ricordare mi porto due batterie perché questa sta lampeggiando se sta per spegnere così posso fare video bene casomai farò un altro video che farò vedere solo che camminare per farvi vedere quel pezzo di strada che mi sono scordata scusate ecco adesso sono arrivata qua ancora regge la batteria qui a ferrovia qui a ferrovia e giro qua e andiamo verso la macchina facciamo la curva facciamo la curva facciamo la curva quando stavo qua non anche facevo i video sarebbe stato un casino perché quella sopra bussa bussava come una matta buttavo già l'acqua un casino è più tranquillo così il canale che si è abitata sola per questo un giorno racconterò non dirò nomi per privacy non dirò cognomi ma vi racconterò tutte le cose che mi sono successe quando abitavo qua a Civita non ho venduto per quel motivo ma ho venduto perché avevo solo una camera una cameretta cioè una camera mia e una cameretta e racchievi non c'aveva una cameretta per lei e allora io volevo vendere quella e comprare un'altra invece niente vi racconterò tutto su un video che farò lo dovrò registrare vi farò vedere non farò vedere vi racconterò la mia storia prima di arrivare in questa casa che sto in affitto quella era mia di proprietà adesso stiamo arrivando ripeto la macchina qui dampeggia la batteria e la batteria ce l'ho carica a casa sapevo me la portavo va bene comunque sono vestita così comunque sono vestita così come sempre porto questo zainetto non lo so se mi c'entra uno o due batterie e sono vestita sempre così sono vestita come mi vesto sempre per andare a camminare ecco sono arrivata qua dentro la macchina non capisco perché la batteria quando la spengo si ricarica un po' vi faccio vedere adesso bene la fotocamera che ho è piccolina perciò mi dà fastidio anche per guidare e mi entro dentro il marsupio ecco la fotocamera è questa piccolina qui della Canon è molto comoda e registra bene della gare questa qui c'ho questa qui della gare poi c'ho una mia di grigia che fa batterie le pile normali e poi c'ho quella grande però per andare in giro questa è più comoda ho quella mia grigia mum è capitata questa ho preso questa perché quell'altra devo portare proprio le batterie a presso tutte queste cose qua ah beh comunque registra ancora bene questa sì non so è che c'ho il canale con questa fotocamera mi ricordo tanti anni c'ha va bene partiamo ecco adesso partiamo vi faccio vedere che partiamo andiamo a vedere se è aperto quello del gas perché c'è solo una pallina di gas se è aperto metto il gas aspettate che devo girare il volante col braccio mi fa male e poi partiamo vediamo se è aperto il benzinaio andiamo dal benzinaio ecco sono arrivata a casa stavo proprio a casa sto fuori di casa ma se è nuvolato e speriamo bene guardate come se è nuvolato oggi speriamo bene che non piove perché pensa domani doveva tagliare l'erba non so del prato va bene ma mi dà fastidio a me la luce perché sei duroso perché non avendo le lacrime mi dà fastidio perché me ne metto e va bene adesso sono arrivata a casa e ci è bastare la batteria adesso la carico perché c'ho due perché siccome c'ho due canon così che una era mia e una delle lacrime la mia non funziona più fa solo 50 così e allora quella buttata uso quella grande e questa qui piccola e un'altra ce l'ho ce l'ho tre tre due piccole e una grande perciò per fare i video a voi ce l'ho le fotocamere e perciò non vi preoccupate c'è questa qui c'è un'altra grigia sapere piccola così che fa batterie e vide proprio e vide ricaricabili ho comprato quella questa invece la batteria che si carica normali e c'è due batterie di questa più c'è c'è di pire di quell'altra e più c'è quella più grande che c'è un'altra batteria sua non vi preoccupate che non vi lascerò mai c'è tante cose per registrare non so con l'altro youtube ma io ho tante cose per registrarvi video e sono felice e mi piace mi piace mi piace mi piace registrare adesso vi lascio perché devo chiudere la macchina devo prendere un zainetto e con la fotocamera è molto complicato ciao a dopo ecco l'ho messo a caricare e ce l'avevo due non so con un'altra un'altra batteria ecco ma mi sono vestita devo andare a comprare un po' di cose al negozio siccome che non si può entrare con la fotocamera perché c'è scritto qua di fogli così che non si può entra ve lo volevo dire per ultimo però mio marito ha detto prima oggi è nostro anniversario quanti sono 40 anni sono sposati 60 sono 32 anni 31 io ho fatto conto da sono 31 ieri sono 32 31 erano già annoscuso vabbè sono 32 anni erano 89 fa conto si sta sentendo su figlio di una youtube che non conosco vabbè buongiorno a tutti oggi è l'anniversario di fiorellino e di pinguino facciamo 31 anni del matrimonio io dicevo 31 lui diceva 32 povero me povero me io me 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 come mi sento giovane mi sento un ragazzino ancora mi sento un giovane otto mi sento un gardellino andiamo a vedere la cartella clinica facciamo avere la cartella clinica non mi interessa vediamo la cartella clinica non mi interessa la cartella clinica comunque facciamo 31 anni di matrimonio oggi e ancora stiamo insieme come famo ancora stiamo insieme come cavolo è stiamo insieme ancora appunto non lo so nemmeno io che bisogna cambiare minestra troppo è 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 un ministro mi ha cambiato mi piaceva mi tocchiare ti è giocato mamma mia è un carro va già a questo ora oh ma alle 5 del mattina stiamo a 18 fatti buona giornata andiamo dove a comprare qualcosa si andiamo a comprare qualcosa regalo niente andiamo a comprare qualcosa e poi la maniare per un altro eh basta ah come si chiama le buste e basta abbastanza del genere oggi 31 anni è vestito da coso lì però non ci andiamo mai a armare noi solo coso qua c'è beh e voi ciao che è fammi fare troppo vicino non ci vedo più vabbè che è lui non ci vede io sono troppo vicino metà passiva che ci vedo io ho 10-10 di vista va bene adesso andiamo un attimo con di fiori che stiamo aspettando rachele a prendere un po' d'aria pesca oggi è pure mezzo nuboloso ok qui c'era bello un bel tavolinetto per mangiare un bel tavolinetto per mangiare ecco topo topi ciao cimmi questa è la sua copertina e non tocca toccare l'ha svitolata tutta vero la tua copertina anche mi guarda eh cimmi cimmi toby ciao ciao ecco adesso andiamo via che andiamo a comprare qualche cosa a pubblicità per questo anniversario che quello diceva 32 anni io 31 vabbè guardi siamo 31 anni aumenta 32 a gennaio che stiamo insieme ma no che siamo sposati eh vabbè ma neanche boh non so va bene stiamo sposati a gennaio sono chiamato va bene a gennaio che ci conosciamo siamo insieme ciao a doppio stiamo per cascare comunque siamo arrivati qua questo negozio come si chiama come si chiama frutti schede vabbè fresco 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 market fresco market perché qua c'è sta la birra che piace al guerrino perché ora spieghi tante volte trovo la roba che è nera dentro senza essere scaduta è una muffa sembra un discount che è questo c'è la muffa c'è c'è sta la muffa senza non posso girare perché c'è la gheria vabbè comunque c'è sta la muffa vabbè ora vediamo qua però purtroppo qua non si può registrare dopo vi faccio vedere a casa che abbiamo comprato vabbè sentato che è preso stavo aspettando che apri vabbè ma apri va bene ciao dopo ecco sono arrivata dalla spesa vi faccio vedere prima di tutto lo scontrino sono andato e questo ne posso qua e abbiamo speso e abbiamo speso 3845 e abbiamo comprato oggi che è il nostro animisterio per qualche per il piatto poi e questo qui per fare l'antipasto poi vabbè le buste non troppe le ho detto le buste però me le date di più e questo limonata il caffè per fare il caffè freddo il pane il forno morelli qua è buono questo il pane qua poi il pesto il formaggio e un altro e un altro poi andiamo di qua le buste questi per agheri e la tua questa qua per oggi che oggi devo sgarrare le cose anche che c'è all'iversario abbiamo comprato questo qua per fare la pasta oggi per fare l'antipasto ho comprato questo qua e questo qua poi un'altra busta questa è pasta questa è già se l'è manciata le bustine per l'umido che l'avevo finita questo per i cani senza crudine però questo questo il simbolo senza crudine qua il salciciotto lo taglio io lo do e e il salame e adesso aspettiamo che è ora di pranzo facciamo l'antipasto insieme e mangiamo insieme ciao a dopo ecco adesso è ora che manciamo wow proprio mangiamo l'antipasto poi mangiamo la pasta col pesce poi mangiamo che è un dolce lì che ho comprato ora vi faccio vedere il tronchetto il tronchetto ora dimmi l'antipasto ecco faccio vedere l'antipasto però tutte le sono uguali buon appetito ecco adesso mangiamo la pasta col pesce oggi mangio così che sgarro che è anniversario poi ho pensato di mettere un altro chilo basta buttare gli achiri eh buon appetito ecco adesso mangiamo questo qua la venita dopo metto sul piatto vi faccio vedere mi stanno dicendo che mi sono sbagliata si ama tronchetto cappuccino lo fattete qui lo si fattete oggi no io come la prima ah si è visto dopo non si vede troppo ecco adesso è ora della torta e vabbè questo dolcetto lì tronchetto il tronchetto caffè ciao dopo prima andare a letto ciao fiorellini ciao fiorellini adesso me ne vado un po a letto e il video lo continuiamo dopo quando mi alzo perché voglio provare una caffettiera che si fa il cappuccino noi vediamo se sono buona vediamo ciao a tutti ciao ciao fiorellini fiorelline ne sono alzata è nuvoloso prima stava al sole ma è nuvoloso però si piove pure vero? ma come sono sposati che è successo oggi lui quando mi versare mamma mia mi ruffiava davvero mamma mia ma voglio provare se riesco a fare la schiuma con la macchinetta vediamo ecco questa qui è quella che ho mangiato stasera che l'ho all'estate perché fritte non le posso mangiare e la chiera invece la con cotte dentro fanno un guerrino uguale questa qui è di guerrino buona cena e ciao a dopo penso che rimangio la torta dopo ecco fiorellini fiorelline per stasera abbiamo finito questo video e spero che vi è piaciuto e un altro giorno faccio un video sempre su dove vado a camminare perché vi devo far vedere la strada per fare la cosciatura però io non la faccio perché vado lì a camminare poi se volete più vlog più volte la settimana scrivetemi qua sotto io adesso vi lascio mettete i bit at i like iscrivetevi al canale cliccate la campanellina e sotto come sempre c'è il link del mio secondo canale ciao al prossimo video anzi vi volevo dire prima da finire a montare questo video speriamo non mi sia scacciato tutto che non ce lo so pensare se volete che io tutti i giorni vi faccio vedere dalla mattina alla sera che mangio è basta senza far vedere che vado in giro o robe così tutta tutti i giorni solo per mangiare quello che mangio durante la giornata metto questo e metto pure un altro attacco insieme se volete mettiamo insieme i video e ve li metto insieme se volete mi scrivete qua sotto a Grazie a tutti